Grazie Ok, abbiamo parecchato qualche vento, certo? Guarda il vento dentro, vedi? Vedi, è una più forte. Vedi, vedi? Vedi, vedete? Oh, vedi la canta. Bravo! Grazie, bravo! Mazda! Eh? Ah, io vedo quella. Quindi, no, la posizione è molto beccata di sopra, eh? Perché abbiamo anche le stagioni, eh? Mi sembra una stabilità di... Dai, allora, vieni. Allora, ok, brava, avanzare, vieni, avanzare. Oh, brava! E la pista dov'è? Grazie, però quando tieni la pista, non devi tirarla da lì. Devi aprirla per riuscire a canta, la cosa che non c'è con il croccio, eh? Passo, andiamo. Vai. E' un po' di sart. Non c'è con il croccio, eh? Non c'è con il croccio. Non c'è con il croccio.